Choose your player Mario Ciao a tutti ragazzi sono Gongs e Vidal Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su Fortnite Battle Royale Cercherò di giocare una partita Senza luttare nemmeno una chest Nemmeno una cassa di munizioni E nemmeno un airdrop L'unica cosa che posso luttare è il lama Perché ovviamente è bellissimo E non posso non luttarlo Allora scenderò nel posto migliore Con il maggior numero di loot a terra Allora ragazzi il posto migliore dove c'è più loot a terra È senza dubbio questa parte qui Quella con le case abbandonate Poi da lì mi sposto verso Parco Pacifico Si aspetterò un po' purtroppo per arrivarci Però comunque se non devo luttare chest Non devo luttare casse di munizioni Non posso luttare airdrop Posso luttare solamente il lama Mi conviene partire safe per poi andare a Parco Pacifico E uccidere quelli che ovviamente Hanno già luttato tutto Mi lancio adesso vediamo anche quanta gente Si sta lanciando in questo momento Sembrerebbe nessuno per il momento Vediamo un po' Allora scendo in picchiata sino al motel O poco poco più avanti comunque Poi da lì arrivo sicuramente alle case che sto puntando Eccole lì Dovrei riuscire ad arrivare sulla prima esattamente sopra O forse nella porta Ma vabbè non importa L'importante è arrivare lì Non ho visto così tanta gente come mi immaginavo Anche perché sì ovviamente Come ho detto prima Eravamo un po' in ritardo Rispetto al percorso del pullman Allora mi sono preso subito un fucile a pompa Un fucile a salto bianco Benissimo Cambio di posizione Ci sono anche delle bende Perfetto Altri proiettili Allora devo controllare Se c'è qualcosa di decente da prendere Oltre a questi proiettili Sicuramente ci sarà qualcosa Proviamo a controllare dentro le case direttamente Essendo le ceste non le posso prendere Un altro fucile a pompa verde Altre munizioni Va bene per le munizioni Qua sopra forse c'è qualcosa Io passo da sotto Poi controllo tutto il palazzo Ho bisogno del mio fucile a pompa preferito io Quindi lo devo trovare Ma davvero? Davvero? Grazie Molto gentile Qua c'è un fucile a caccia Lo prendo subito Qua cambio Questo lo butto Tengo il fucile a caccia Avrei potuto aspettare Che luttasse almeno un minimo Però comunque diciamo Che mi è andata bene Non volevo rischiare di morire subito E così ho fatto Allora Vampo a fucile Non me lo prendo Mi tengo così Scudo e tutto Sicuramente lei ha lottato una di queste case Io sono messo anche abbastanza bene Sinceramente Ok Facciamo un po' di materiale Sicuramente ne avrò bisogno Non ho 92 Non è assolutamente molto Me ne serve molto molto di più Cioè un momento Lei ha lottato quella chest E non aveva trovato nulla di interessante Incredibile Veramente incredibile Allora Iniziamo ad andare verso il parco pacifico Perché comunque siamo messi più o meno bene 50 di scudo 100 di vita Un fucile a caccia blu Poche munizioni Sì Però comunque siamo messi abbastanza bene Il fucile a pompa verde Ne ha tantissime Ne ha 32 Cavolo In effetti avrei anche potuto Buttare questo e prendere l'altro Però vabbè Ormai ragazzi Stiamo partiti Siamo partiti L'ho anche ricaricato Non posso tornare indietro ora Vediamo se trovo qualcuno Se riesco ad uccidere qualcuno Lo voglio Peccato non sia verde Veramente è un peccato Però Mi accontento Anche bianco fa molto più danno all'istante Airdrop vicino Ma non lo posso prendere ovviamente Me ne ero dimenticato O meglio Non ci stavo pensando Quindi non mi conviene neanche andarci 300 di materiale Mi vanno benissimo Fucile a pompa alla mano Controllo questo lato Allora qua sicuramente c'è la chest Quindi non hanno lottato Vediamo se c'è qualcosa di interessante Anche qua in giro Oltre alle munizioni Le pistoline stupide Niente Scudini piccoli Perfetto Ragazzi in queste case Oltre a fare materiali Non sto facendo altro Allora Devo stare attento C'è qualcuno qua Allora Allora Lo volevo trollare Invece non ce l'ho fatta Ha il minigun questo Sta girando dentro casa con il minigun Voglio vedere se esce Ok morto Grazie grazie mille Grazie mille Ok perfetto Il pompa non mi serve Da lui mi servono solo le bende forse Sì perché tutto il resto ce l'ho Perfetto così Allora intanto lì ho lasciato la trappola Per vedere se qualcuno la vuole prendere Non aveva piazzato anche lui vero? No questo pompa Allora non lo ricarico Mi tengo questo Perfetto Ho di nuovo un bel po' di materiale Questa casa sicuramente se le luttate lui Vediamo Sembrerebbe di no a quanto pare Mi sto trovando Ragazzi mi sto trovando veramente case non luttate In tutto parco pacifico Mitraglietta verde Sì qua l'ha luttata ma non tutta È stupido Se la gente è stupida ragazzi è stupida Allora me ne posso andare tranquillamente ora Allora vediamo Vediamo dove posso andare Aspettiamo un po' che si chiida la zona Visto che ci sono Intanto mancano 5 secondi Intanto mi controllo intorno Controllo cosa c'è qui Uh bello Munizioni Ne ho anche un bel po' per il fucile da caccia Sono di nuovo in zona Non ci credo dai Non può essere uno scherzo Me ne vado verso sinistra Almeno sicuramente troverò qualcuno lì Qualcosa di leggendario Cos'è questa cosa leggendaria? Il cespuglio davvero Oh mio dio Non vedo nessuno nemmeno arrivando Eppure sono qui ragazzi Venite Venite ragazzi Sono qui Sono qui Nessuno mi vede? No A quanto pare no Andiamo Forse mi faccio Meno male che ho avuto i riflessi pronti Pensavo di farmi male Di farmi veramente tanto male Vado verso loot lake Vediamo chi c'è 13 persone vive Sicuramente riuscirò a fare qualcosa Sì Dai almeno un altro paio di kill Non chiedo di vincere Anche se vorrei vincere Però comunque un altro paio di kill Non sarebbero male Ragazzi Ho visto qualcuno Ho visto molta gente Retro front E passiamo da questa parte C'è moltissima gente abbarricata lì al lago Se salgo da qua sopra Forse riesco a prenderli Qualcuno è morto di fucile a pompa Vediamo se qualcuno sarà a luttare l'altro Da qua non vedo tantissimo eh Non sono sicuro di dove siano andati Uno è morto lì Uno stava costruendo lì Forse il cespuglio l'avevi potuto prendere Intanto mi voglio controllare anche dietro Non vedo nessuno dietro per fortuna Nooo maledetta Maledetta Devo salire qua sopra per forza Per avere visione su di lei Non è possibile La stavo per sparare io La stavo per sparare E sto missando anche tutte le scale Benissimo Non so più costruire ragazzi Non so assolutamente più costruire Da qua riuscirò a prenderla quella lì? E la ferma Dovrei riuscirci O è scesa? Ok 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 Ce la faccio? Se si ferma ce la faccio? Oh! Trolliamolo poco a poco E ora posso scendere a luttare il suo cecchino Il suo fucile a cecchino Lo voglio assolutamente Non so come ho fatto a prenderla in testa così Erano 124 metri credo Erano pochi sì Però comunque ragazzi Mamma mia Sono riuscito a calcolare la posizione Non ci riesco solitamente col fucile alla caccia Sono un disastro con il fucile alla caccia io Siamo rimasti in otto Ho bisogno del suo loot Ma Ok Prima cosa da fare Non impanicarsi Luttare velocemente Buttare questo Prendere questo Prendere tutto quello che c'è velocemente Ok così Grazie Via le bende Un altro shield Via questo Prendo quello Non è possibile ragazzi Non è possibile Non ci credo Non ci voglio credere Questo da dove è arrivato? Perché proprio nel momento in cui Io mi stavo riparando? Perché nel momento in cui mi stavo curando? Non è possibile Bene ragazzi per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto lasciate un like Commentate e condividete Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche i sogni che ci sono in descrizione Ci vedremo in un prossimo video Grazie a rivederci Alla prossima Alla prossima Alla prossima